Io voglio pensare sempre a cose positive, non penso a eventuali errori che possono succedere, perché giocando possono succedere. Noi dobbiamo fare una partita con grande determinazione, ogni singolo giocatore deve pensare alla propria prestazione, a voler essere protagonista, quello che gli dico sempre, e cercare di vincere i duelli individuali, perché poi il calcio è vero che è un gioco collettivo, ma fatto di tanti duelli individuali. Quindi preparare la partita, voler vincere tanti duelli individuali, spesso il risultato è positivo. Noi in queste ultime partite abbiamo buttato via punti preziosissimi per palle inattive, quindi in questo momento, oltre a tante altre cose, per carità, è la cosa da migliorare più di tutte, il campo ci sta dicendo questo, e quindi ci abbiamo dedicato qualche allenamento in più, come ho detto prima, per creare più attenzione su queste palle inattive. Noi siamo qui per cercare di vincere le partite, per migliorare la classifica, quindi anche se Bassano è una squadra forte, noi andremo lì sicuramente cercando di fare una partita coraggiosa, di determinazione, di grinta, di mettere qualità tecnica, perché senza queste difficilmente esce a Bassano con dei punti. A Bassano lo conosciamo bene, ha tanti giocatori importanti, ha qualche probabilmente defezione, è qualcosa che ci interessa relativamente. È una squadra che negli ultimi periodi ha alternato buoni risultati con dei stop, ha fatto un'ottima partita a Reggio qualche giorno fa, e quindi è una squadra con qualità, con gamba, con giocatori d'esperienza, quindi è una squadra costruita per stare tra le prime 5 o 6. Il mio primo obiettivo quando rientri è cercare di creare squadra, ma creare squadra vuol dire che tutti i componenti si sentono protagonisti e lottino per arrivare a un risultato. Sul fatto dei punti non è questione di un ruolino interno o esterno. Quando tu stai lottando per uscire dai play-out hai bisogno di trovare continuità, e la continuità è il primo obiettivo da centrare per cercare di uscire dai play-out. È chiaro che adesso di Bassano è un campo difficile, ma noi abbiamo bisogno di punti, quindi tutte le nostre concorrenti in questo turno hanno partite difficili e noi vogliamo cercare di sfruttare l'occasione andando facendo punti a Bassano.